Si prospetta un fine settimana all'insegna del grande tennis a Sciacca, grazie al tennis club Sciacca che oggi è domenica, ospiterà la terza tappa del Fit Junior Program, divisione maschile e femminile, che attualmente vede iscritti oltre 80 bambini provenienti da diverse città siciliane, che saranno accompagnati dai propri cari. Una vera e propria festa all'insegna dello sport. L'assegnazione di questa tappa è un tributo della Federazione Italiana Tennis all'impegno profuso negli anni dal tennis club Sciacca del presidente Vincenzo Sclafani, che è sempre stato in prima linea in tutte le manifestazioni della federazione, dal settore giovanile a quello per adulti. Oggi andranno in scena i tornei denominati Red, Orange Maschile, Orange Femminile, Super Orange Maschile, Super Orange Femminile, Super Green Femminile e Super Green Maschile, mentre domani si scende in campo per i Green Maschile e Green Femminile. Inoltre, come ciliegine sulla torta, domenica 19 marzo, a partire dalle ore 10, si disputerà la quinta giornata della Serie C maschile tra la Tulone Olio Tennis Club Sciacca e il Club Tennis Palermo. Entrambi i team sono primi in classifica a pari punti, pertanto si tratta di un vero e proprio spareggio per la testa della classifica e per l'accesso alla fase successiva del torneo. La conquista del primo posto è sicuramente un obiettivo difficile per i seccensi, ma come ha sempre fatto la squadra, domani onorerà l'impegno, schierando sul campo i migliori giocatori possibili. Atteso un grande spettacolo e una bella cornice di pubblico tra soci del circolo ed appassionati di Tennis.